Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video ASMR, questo in particolare sarà uno show entel di acquisti o almeno ci provo perché oggi per la prima volta registro mentre la mia coinquilina è in casa quindi credo che ci saranno molti tagli fuori piove quindi probabilmente sentirete anche un leggero rumorino di pioggia spero non mi dia fastidio proprio per non fare troppo rumore questo video è in un whispering molto leggero però ci saranno tanti crinkling sounds perché vi faccio vedere un po' di new entries i primi acquisti di cui vi voglio parlare arrivano da un sito che è il sito Banggood con cui ho avuto l'opportunità di collaborare loro mi hanno inviato alcuni capi che io adesso vi vado a mostrare ma prima volevo dirvi che oltre a trovare tutti i link dei capi giù nell'info box troverete anche un codice sconto del 10% quindi se vi va date un'occhiata le spedizioni sono abbastanza rapide 10-15 giorni e i prezzi sono molto molto contenuti iniziamo con un bellissimo costume che vedrete ebbene sì anche indossato tutto vi arriva confezionato all'interno di singole bustine come questo per vedere i prezzi vi prego di aprire i link perché non li ricordo ho scelto un costume intero in stile un po' boh che mi ha colpita appena l'ho visto sul sito perché pochi giorni prima avevo visto al mare una ragazza ma che lo indossava esattamente uguale e me ne ero innamorata quando l'ho ritrovato sul sito mi è sembrato un segno del destino ho detto deve essere mio e così è stato il costume è fatto così come vedete ha una bellissima fantasia floreale e ha questo volano si indossa lasciando le spalle scoperte ed è bellissimo io ho preso una taglia L e mi sta perfettamente andate a vedere bene la tabella di conversione delle taglie e tutte le misure in centimetri perché sono molto molto attendibili e io ho pensato che sarà perfetto quando avrò raggiunto già una buona abbruzzatura fa molto stile quindi l'ho pensato per quando decido di andare al mare nel pomeriggio inoltrato magari per un aperitivo è bellissimo anche con un pantaloncino sotto una conna, degli shorts addirittura ci si può pensare di uscire usandolo come un vero e proprio body troppo 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 particolare lo vedete indossato tra poco ecco il tessuto è molto buono devo dire un bellissimo come si chiama questo tessuto qui? lurex? no non lurex una bellissima ligra veramente ha e ha anche le coppettine preformate sul seno quindi una leggerissima imbottitura che serve a non far vedere nulla sostanzialmente e questo era il primo capo di banggood passiamo al secondo anche esso nella sua bustina questo capo è troppo carino sono sicura che vi piacerà moltissimo ve lo faccio vedere sulla gruccia così ci capiamo meglio allora è una semplicissima t-shirt nera con una stampa molto carina c'è scritto not cute just psycho in un bel cotone morbidissimo di questa ho preso una xl e mi va bene comoda avrei potuto prendere anche una xl ma preferisco una vestibilità più morbida e l'ho immaginata veramente come t-shirt da tutti i giorni o anche dentro una conna dentro un jeans a vita alta commenta molto 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 carina Not too cute, just psycho 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 Carina, cosa ne pensate? Molto carina secondo me? Bellissimo Questo era il secondo capo L'ultimo oggetto che ho preso su Banggood è un oggetto che servirà per il canale per un roleplay Cosa sarà questo oggetto misterioso? Ebbene sì È un rasoio da barba che non mi servirà chiaramente a farmi la barba ma tantomeno a farla a qualcun altro perché non ne sono capace ma l'ho preso per voi per un roleplay dedicato soprattutto ai maschetti ovvero un roleplay barbershop che vedrete presto sul mio canale Mi era rimasta una piccola quota del budget quindi ho pensato di investirla in un oggetto che potesse tornare utile al canale E' nulla Questo è tutto ciò che mi ha inviato il sito Banggood Se volete sostenermi aprite i link giù nell'info box anche solo per dare un'occhiata ed eventualmente utilizzateli se intendete fare degli acquisti utilizzate soprattutto il codice sconto che troverete giù nell'info box Io vi ringrazio comunque per la collaborazione Passiamo gli acquisti fatti da me Ho fatto un piccolo ordine sul sito Chiavi che è stato un vero fallimento perché avevo preso due costumi e un set di bracciali e di questi costumi diciamo che uno quindi pezzo sopra e un pezzo sotto e un pezzo sotto sono totalmente abnormi quindi sto facendo un reso vi faccio vedere l'unico pezzo che terrò praticamente che è il di sopra di un bikini il costume è questo come vedete ha questa bellissima fantasia floreale con sfondo nero e fiorellini bianchi e la particolarità è che è come incrociato e qui rimane una striscia di pelle vuota è molto bellino ho preso una seconda e mi va bene leggermente grande ma lo posso tranquillamente utilizzare il pezzo di sotto era bellissimo ma enorme io ho preso una quarta ma praticamente avrei dovuto prendere una seconda perché poi sul cartellino dello slip c'era scritto che una quarta corrisponde a una XL io avevo bisogno di una M quindi addirittura la seconda credo che sarebbe andata più che bene proverò a fare il reso e cambiare la taglia purtroppo l'altro costume che avevo preso era carinissimo con una stampa bici sul bianco e azzurro ma anche quello mi va veramente troppo grande sia il di sopra che il di sotto costavano pochissimo sul sito di Chiavi ci sono tantissimi costumi e molto spesso vengono messi in sconto pensate che questo pezzo qui l'ho pagato in sconto 10 euro e 40 e lo slip veniva sui 6 euro l'altro costume addirittura l'ho pagato 7 euro in tutto quindi proprio e sono veramente molto carini e fatti bene sul sito di Chiavi per raggiungere la quota di 30 euro oltre la quale si ottengono le spedizioni gratuite ho preso un set di bracciali che ora vi mostro subitissimo il prezzo iniziale era di 4 euro ma anche questi erano scontati li avrò pagati 3 euro o poco meno o poco meno allora sono quattro braccialetti di cui tre in colorazione argento e uno in colorazione oro due sono dei semplicissimi bengol uno argento e uno dorato poi ne abbiamo uno argentato fatto in questo modo con una lamina rigida e uno semi rigido che ha queste pietre questi chiaramente si indossano tutti insieme o separatamente come preferite li ho trovati molto carini per la stagione estiva ok, gli ultimi, anzi no non sono gli ultimi vi mostro poi degli acquisti fatti da Pinky che potete trovare ancora in negozio avevo bisogno di top freschi e ne ho presi due approfittando di una promozione per cui acquistando due top il secondo veniva scontato del 50% e io ho preso questo qui questo qui in tessuto così molto leggero, bianco con le ricchine nere e il pizzo questi li ho presi in taglia S perché hanno una vestibilità molto larga è fatto così con un doppio strato quindi non è trasparente molto 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 carino, fresco, leggero, pratico ma anche elegantino volendo vi faccio vedere la fantasia da vicino il prezzo di questi top è di 15,99 euro però ripeto c'era una promozione in corso quindi li ho pagati un po' di meno le spalline sono regolabili e l'altro invece è fondo nero è tutto 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 pieno di fiori i fiori sono il must di questa stagione rettifico il prezzo non di 15 euro ma di 12,99 euro quindi tutti e due li ho pagati sui 20 euro questo non l'ho ancora indossato e mi piace molto da picchi ho preso anche un pantaloncino nero molto fresco, molto semplice ma l'ho dimenticato a casa dei miei quindi non ve lo posso mostrare purtroppo a proposito di pantaloncini vi faccio vedere due piccoli premi che mi sono giudicati in un torneo di beach tennis e ho vinto un paio di pantaloncini da beach che sono questi stupendi allora sono praticamente di un grigio celestino cangiante con i bordini in fucsia e questo stemmino con le palme questi sono appunto dei pantaloncini da beach ma li potete usare anche per il beach volley per andare a correre, per andare al mare per fare qualsiasi tipo di attività sportiva e sono anche la mia taglia quindi sono stati un regalo un premio apprezzatissimo un po' di Fabric Sounds e poi sempre al torneo ho vinto questa pochette una semplice pochette con i gufetti per portare le vostre cose in borsa o per il mare sto appena scoprendo che dentro ce ne sono altre due no, altre tre è una pochetta madre osca sono cinque pochette ragazzi ve lo giuro, io non lo sapevo cioè io l'ho appena scoperto con voi perché non l'avevo ancora aperta quindi sono ben cinque pochette di dimensione crescente ok ragazzi l'ultimo acquisto che vi mostro è l'acquisto per la casa che andrà a sostituire il mio adorato profumatore al tonka e peperosa di Elan io adoro avere in camera questi profumatori con i pastoggini aromatici perché sono meno invasivi di una candela la candela poi l'accendo quando ho proprio voglia di dare una profumazione più intensa all'ambiente questo purtroppo è finito è rimasto poco poco liquido ormai in odore quindi va cambiato e ho trovato a un costo ben più contenuto di 2,99 euro questo qua 100 ml made in italy un profumatore al iris effettive una profumazione che mi è piaciuta moltissimo di questa linea qua grilu luxury fragrances allora ovviamente all'interno troviamo i pastoggini di legno che fanno un bellissimo rumore che bello potrebbe essere un nuovo trigger ok e naturalmente abbiamo la boccettina questa è una profumazione splendida ed è tanto prodotto sono 101 ml quindi penso che mi durerà un bel po' ha il suo tappino e poi metteremo i pastoggini 2,99 euro è nulla bene ragazzi io direi che ho terminato il video è stato piuttosto lungo spero che il risultato a livello di suono sia accettabile grazie per essere stati con me io vi mando tanti bacini e tante carezzine affettuose e vi aspetto molto presto con nuovi roleplay dei nuovi tag che devo girare fatemi sapere se preferite un tag con solo whispering o in cui faccio whispering e suoni proprio per renderlo un po' più interessante e rilassante grazie di essere stati con me tanti baci tanti 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 baci a molto presto ciao grazie a tutti